Da oggi c'è in applicazione il nuovo decreto del Presidente del Consiglio che pone la Sicilia, quale zona arancione, bar e ristoranti chiusi, i gestori ci provano ma i primi segnali non sono incoraggianti, lo smart working negli uffici infatti non aiuta. Da oggi stop a bar e ristoranti in Sicilia, il primo giorno da zona arancione per l'isola e dietro il bancone dei bar o nelle cucine dei ristoranti, prima che caffè o antipasti, si fanno i conti se conviene aprire o no. Non tutti sono nelle condizioni di dedicarsi all'asporto che, dicono in molti, copre appena il 10% del fatturato di un'attività e allora per tanti i primi giorni saranno un po' una prova, un volerci tentare. Stiamo provando questo asporto anche se vedo una cosa sbagliatissima perché ci sono tantissimi negozi aperti, negozi di abbigliamento dove mettersi un vestito ciole mezz'ora o un'ora per provarsi, mentre qua era giusto fare pure due alla volta, era tranquillissimo e andare avanti così come prima. Hanno legato tutto al bar, al ristorante, alla ristorazione e non credo che ce la possiamo fare, poi non capisco neanche la parola asporto per un bar, cioè dare un caffè, un cliente che viene a prendersi il caffè lo dovrebbe prendersi da portarlo, dove lo beve questo caffè? Nelle vicinanze non si può, perciò siamo più penalizzati ancora e facciamo più assembramento davanti le porte. Il problema è anche quello che manca alla clientela, gli uffici con lo smart working si sono svuotati e così non c'è pausa caffè né pausa pranzo. Adesso lo smart working, il personale nell'ufficio è dimezzato, quindi anche le persone chiaramente nella pausa pranzo sono di meno, c'è meno movimento in giro. Ma c'è anche chi non ci crede proprio, scottato dall'ondata primaverile della pandemia e quindi ha preferito non provarci nemmeno. Gli effetti sono stati i primi licenziamenti nel settore. Ho dovuto già licenziare una persona, ma non proprio licenziare, meno male che era in periodo di prova, perciò allora l'ho potuto fare e di quanto non venire più, il periodo di prova è finito.